C'è un'importante differenza tra conoscenze scientifiche e ricerca scientifica. Il mancato riconoscimento di questa differenza è in grado di creare davvero una notevole confusione, come è accaduto tra l'altro di recente. Ora, la ricerca scientifica si fonda su un corpus di dati, dati scientifici acquisiti, che è espressione di un consenso che ha richiesto molto molto tempo per formarsi. Quando un membro della comunità scientifica illustra una questione scientifica, dovrebbe sempre essere in grado di distinguere in modo chiaro le conoscenze scientifiche acquisite dalle questioni aperte di cui si occupa la ricerca. Ad esempio, quando un biologo afferma che esiste un meccanismo di selezione naturale, fa riferimento a un processo evolutivo che è espressione di un consenso acquisito, quindi di una vera e propria conoscenza scientifica. Può allora tranquillamente affermare che noi sappiamo che esiste la selezione naturale, dove il noi fa riferimento alla comunità scientifica nel suo assieme. D'altra parte, deve anche essere in grado di distinguere i noi sappiamo che dalle domande della ricerca. Ad esempio, sempre considerando la selezione naturale, la domanda di sapere se il meccanismo della selezione naturale, come abitualmente descritto, è davvero sufficiente per spiegare tutti i processi evolutivi osservati e osservabili. Quindi, quando parlate con uno scienziato, chiedetegli sempre di demarcare in modo molto chiaro le conoscenze scientifiche acquisite dalle domande aperte della ricerca, cioè i noi sappiamo che dai noi ci chiediamo se. Poi è importante aggiungere che anche i noi sappiamo che non sono permanenti, perché anche le nostre spiegazioni dei fenomeni osservati si evolvono nel tempo, nel senso che migliorano, diventano più potenti, ci permettono di meglio predire il futuro. Pensate alla celebre frase pronunciata da Galileo, eppur si muove, quando fu costretto a ritrattare la sua affermazione che i moti nel firmamento erano la conseguenza del moto della terra. Questa sua ipotesi, enunciata tra l'altro da molti altri prima di lui, ad esempio Copernico, era una spiegazione di maggiore potere esplicativo rispetto all'idea che la terra fosse perfettamente immobile nel firmamento. Ma ci vuole tempo per riconoscere che una nuova spiegazione è superiore alla precedente, soprattutto quando la precedente è il risultato di un ampissimo consenso e che la nuova si presenta inizialmente come molto meno intuitiva della precedente. Nella fattispecie la difficoltà nell'accettare la visione di Galileo era legata anche al fatto che non percepiamo direttamente il movimento rotatorio del nostro pianeta. Questo illustra un punto importante. Ciò che consideriamo essere un'evidenza sperimentale dipende anche dal nostro modo di concettualizzare il mondo. Ai tempi di Galileo si pensava che se la terra davvero ruotasse, beh, questo avrebbe prodotto un certo numero di fenomeni che però non venivano osservati e si riteneva che questa mancata osservazione fosse una chiara dimostrazione della falsità delle idee di Galileo e di Copernico. Ad esempio lanciando un corpo verso l'alto in verticale si riteneva che se la terra davvero ruotava su se stessa il corpo in questione non potesse poi cadere nello stesso punto, invece cadeva esattamente nello stesso punto. Ciò che non veniva considerato, diciamo per mancanza di immaginazione, era il fatto che tutto ciò che si trova vicino alla superficie del pianeta, corpi e abitanti, si muove all'unisono con il pianeta. Naturalmente dopo Galileo abbiamo scoperto altri mezzi per evidenziare il movimento del pianeta come osservare il periodo di un pendolo di Foucault, guardare il pianeta ruotare su se stesso direttamente dallo spazio grazie ai satelliti e per quanto attiene alla sua rivoluzione intorno al sole possiamo utilizzare fenomeni come la parallasse stellare, l'aberrazione stellare, l'effetto Doppler. Così Copernico e altri prima di lui come Eraclide e in seguito Galileo hanno rivoluzionato la nostra comprensione del movimento, permettendoci di prendere coscienza dell'esistenza di moti di cui ignoravamo l'esistenza. Poi arrivò Einstein e si scoprì che il modo dei corpi era ancora più complesso perché oltre al moto nello spazio tridimensionale esisteva anche un moto nello spazio quadridimensionale di Minkowski. Ma qui va detto che la rivoluzione della relatività einsteiniana non si è ancora del tutto compiuta in quanto molti miei colleghi non avvalorano l'idea spiegazione che esiste un moto genuinamente spazio-temporale. Poi è arrivata anche la fisica quantistica che ci dice che l'idea stessa di un moto nello spazio, sia esso tridimensionale o quadridimensionale, è solo un caso particolare di un processo evolutivo che avviene essenzialmente al di fuori dello spazio-tempo. E forse è che questo tipo di evoluzione non spazio-temporale è proprio il pezzetto mancante che permette di completare le teorie neo-darwiniane con dei meccanismi di selezione in grado di agire anche sulle proprietà potenziali e non solo sulle proprietà attuali, similmente a quanto accade in un processo di misura quantistica. Ma mi fermo qui. Quello che volevo dirvi è che il consenso scientifico è una conquista molto lenta e faticosa. Quindi non fidatevi di un consenso fabbricato in pochi mesi o pochi anni. E volevo anche sottolineare l'importanza di distinguere il fronte della ricerca dalle conoscenze che consensualmente si ritiene siano acquisite. Ma anche queste, di tanto in tanto, vengono rimesse in questione. E quando questo accade si parla di rivoluzione scientifica. Grazie dell'ascolto.